Qui non sceneggiamo soltanto per il cinema ma anche studiamo e scriviamo serie televisive perché per uno scrittore è un'opportunità meravigliosa avere davanti questa prateria narrativa che permette di seguire una storia per tante ore e di seguire l'arco narrativo di tanti personaggi. Inoltre approfondiamo scritture particolari come quella dei videogames e dei fumetti. La sceneggiatura in realtà è un romanzo, ha la complessità di un romanzo e quindi curiamo anche l'aspetto formale della scrittura.